Il tuo Signore sull'acqua Un lavoro bellissimo da Giovanni Gambacciani che ha fatto una grande comparazione di CFD tra l'AC-75 avviene in attitudine più o meno quindi più o meno sull'acqua questa è una versione semplificata quindi non c'è movimento dell'acqua quando l'acqua si va su e su ma in ogni modo dà una buona visione dell'acqua di cosa succede con l'acqua quando facciamo questo tipo di differenza tra l'acqua abbiamo già detto che ovviamente l'acqua non è passata sotto l'acqua che è positivo abbiamo pensato che sia positivo ma ora abbiamo alcuni tipi di numeri che non sono magari 100% reali ovviamente prima di tutto l'acqua è una luna rossa non c'è una comparazione con New Zealand per esempio ma sicuramente i numeri dicono come proporzioni dicono qualcosa sì la comparazione tra i numeri e i numeri dei numeri e i numeri sono comunque un buon modo di misurare quanto più o meno le cose cambiano i numeri in assoluto probabilmente non sono il miglior non sono giusto in essenza comunque cosa possiamo vedere è che a parte delle forze abbiamo le forze delle forze quindi la forza che è al bale del il 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 è più vicino all'acqua, la forza di guidare è in realtà molto più altra, come 6% più altra, che significa che i voli si aggiano molto meglio se il volo è sotto, invece di quando il volo è 50 centimetri dall'acqua. Ciò che succede è che l'acqua che non è passata sotto il volo, crea una grande bubola di pressione di più alto sul l'acqua, quindi l'acqua è localmente più alto sul l'acqua quando si riuscita i voli, quindi i voli sono attraverso più potere, e più di questo sono attraverso un'acqua in una migliore direzione. Questo è perché l'acqua della forza è solo aumentata da 2%, quindi se i voli si aumentano solo la loro performance e non hanno anche un positivo feedback, l'increase sarebbe lo stesso per la forza di guidare e la forza laterale, mentre vediamo un miglioramento migliore nella forza di guidare invece che nella forza laterale. C'è anche un effetto sull'acqua, no? Sì, infatti l'effetto sull'acqua è molto molto alto, quindi stiamo parlando di più o meno doppiare la forza di guidare dal volo. Non stiamo parlando di l'acqua di guidare dal volo o dal volo, perché stiamo solo guardando la parte outside dell'acqua, quindi è una semplificazione CFD per sicuramente, ma vediamo un'increase di quasi 210%, quindi quasi più del doppio della forza di guidare. forza. Sì, aspettiamo ancora più dal volo di Team New Zealand, che è, per esempio, che è anche molto più che il Lunarossa 1, per sicuramente, ma ancora, aspettiamo ancora più dal Team New Zealand, ma stiamo ancora parlando di 100 kg, non molto, non incredibili high lift, no? Sì, infatti, i numeri assoluti non sono così giusti, ma più o meno stiamo parlando di 100 kg, diciamo, circa 100 kg, che non è così molto. È qualcosa, 80-100 kg è qualcosa, è come 1% del total weight of the yacht without sail and crew, but it's 1%, it's not that much, but it's something, it starts to be something. Anyway, compared to high mode and low mode, for sure, there is a big improvement. Yes, and now we can start talking about moments. Yes, in fact, what changes is not only the the way the forces are acting, but also the point they are acting. In fact, the big bubble of high pressure is more concentrated on the forward part of the hull. We see in the image there is a big bubble on the on the bow of Lunarossa, of the hull of Lunarossa. In fact, we are seeing a force which is driving the boat to go less up, so it's helping the boat to go less up. Less windward, less laughing, you know, we can say. Yes, in fact, so in the yaw moment, let's say, we have something like 38% less tendance of laughing. This means that when the boat is closer to the water, it actually can balance a little bit more easily, probably. So this is obviously something to study with the sail plan and everything, because you need the boat to be balanced in both ways. So when the boat is going up, it will start to try to laugh much more. Another effect is that the bow is also lighter, no? Yes. So it tends less to go down in the water. Yes, in fact, so the bow of the boat is obviously lifting up, and so the closer the bow is to the water, the less it tends to touch the water itself, obviously. That is preventing, not really preventing, but yes, anyway, it's better. Yes, and we can imagine this effect to be much higher in Team New Zealand boat, which has a V-shaped bow with a lot of surface. A real surface effect in this case, for sure. Yeah, but we are anyway seeing a 2% decrease of the pitching moment. So the moment tending to leave the bow. So we are expecting much more on Team New Zealand. The last moment we have to talk about is obviously the healing moment, which is obviously increasing by more or less 2%. But anyway, it's not increasing that much. Again, this means that the high pressure on the low side is acting to have the safe be better on the lower part and more or less the same on the higher part. So the healing moment is not increasing that much. So in the end, we don't have any final conclusion. So we cannot say now who is winning the America's Cup, but still there is something interesting. So it's not because of the lift that is provided by the surface that the boat will be winning.